Sarà proiettato in anteprima per la Basilicata mercoledì 15 marzo al Cineteatro Don Bosco di Potenza. Il documentario, diretto dalla regista potentina Vania Cauzillo, Il mondo è troppo per me, la storia di Vittorio Camardese. Il film, dedicato all'incredibile musicista lucano Vittorio Camardese, percorsore del tapping in Italia, è la storia di un genio della musica che scelse di non essere un genio, un talento dimenticato per più di 50 anni, che grazie al lavoro di ricerca della regista Lucana, finalmente e per fortuna torna ad essere raccontato. Il film, prodotto dalla Jump Cut, è stato realizzato con il supporto della Trentino Film Commission e dal fondo etico di BCC Basilicata. A un certo punto un video degli anni 60 diventa virale, virale in termini nazionali e internazionali. Brian May, il musicista di Queen, per capirci, dice chi è questo che suona in questa maniera magica, al minuto tot tot. I più grandi chitarristi del mondo si scambiano questo video fino ad arrivare alla mia di Bacheca di Facebook, in cui io e tanti altri artisti, lucani, colleghi, vediamo questo musicista incredibile. Qualcuno lo conosceva già, io non capivo perché io non lo conoscevo, essendo quello che suonava un mostro praticamente di bravura. Sono proprio appassionata a questa storia e ho cercato di capire chi fosse questo Vittorio Camardese. Il documentario di Vagna Causillo è un esempio di restanza, di voglia di valorizzare il territorio così come lo siamo noi. Mi preme sottolineare che noi siamo stati i primi a crederci nel 2017, lontano 2017, con un primo finanziamento a fondo etico, quindi a fondo perduto.